L'attualità di Federico II di Svevia anche in cucina, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Accademia Italiana della Cucina. Il convegno è stato patologinato dall'amministrazione comunale e ha visto la partecipazione di numerosi delegati, oltre ad alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. Federico II, oltre ad essere un grande imperatore, lo stupor mundi detto, che amava attornarsi di letterati, filosofi, artisti, amava molto la cucina, amava mangiare, però nello stesso tempo anche se amava mangiare era molto parsimonioso, perché sapeva contenersi e limitarsi, era un grande cacciatore, amava la cacciagione. Relatori d'eccezione sono stati l'archeologa medievalista Salvina Fiorilla, che ha offerto al pubblico una preziosa ricognizione sulla storia medievale di Gela fondata da Federico II. Il presidente del centro studi Federico II di Svevia di Enna Paola Rubino, che ha affrontato il tema culinario Il banchetto alla corte di Federico II di Svevia, luogo di confluenza di culture diverse di incontro-scambio, e Roberto Ariani, segretario generale dell'Accademia Italiana della Cucina. L'Accademia della Cucina è sempre lieta di poter sostenere i propri delegati e per quello sono venuto da Firenze, proprio per portare la testimonianza della vicinanza dell'Accademia Italiana della Cucina alla delegazione di Gela, a tutte le delegazioni della Sicilia, che oggi sono ben rappresentate da molti delegati e da due coordinatori. Questo è un territorio particolarmente evocato, perché il primo trattato lo fece 400 anni prima di Cristo, a Archessa Tota da Gela, che ha dato il primo segnale di interesse particolare per questa alimentazione, che oggi ha avuto uno sviluppo straordinario grazie anche all'attività dell'Accademia Italiana della Cucina, che è l'unica istituzione culturale riconosciuta dello Stato italiano sull'argomento, e che sta cercando con notevole spirito di sacrificio di questi volontari, perché noi siamo tutti volontari, di produrre una conoscenza sempre più ampia in Italia e nel mondo. I lavori coordinati dalla giornalista Rosa Battaglia si sono conclusi con la recita di un monologo tratto da Il Viaggio di Costanza, scritto e interpretato brillantemente dall'attrice ennese Elisa Di Dio. Un uomo amato, chiamato e inviato è il tema della mostra dedicata a Frarocco Quattrocchi, che si tiene nei locali della Salone Parrucchiale della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Gela, in occasione del primo anniversario della scomparsa della saggiordote gelese. La mostra ripercorre il cammino francescano di Frarocco Quattrocchi, scomparso lo scorso anno a causa di un male incurabile. Attraverso l'esposizione, allestita dalla parrocchia di Via Cappuccini, di cui era sacerdote, si vuole rendere omaggio alla figura del sacerdote, tanto amato in città che sposando la regola francescana, col sorriso e fino alla fine, ha lottato per la vita, accogliendo il dolore come una grazia. Questa mostra poi un po' ripercorre la vita di Rocco, dalla sua nascita, dall'ingresso in convento, dalla sua vocazione, dal suo essere sacerdote qui tra noi. E' stato un modo in cui visibilizzare ancora di più la memoria di Rocco tra i parrocchiani e tra noi come comunità. Credo che lui se lo merita e noi siamo stati contenti di realizzare questa mostra per lui. Cosa vi ha lasciato per Rocco? Guarda, Rocco ci ha lasciato un approfondimento innanzitutto del nostro carisma, come avvicinamento al popolo, alla città, il suo modo di essere sacerdote, di essere fratti, un uomo di dialogo, un uomo di pace, molto accogliente, sempre con un bel sorriso in faccia, il volto veramente che risplende gli del Vangelo. E la mostra è stata molto seguita perché molti ragazzi hanno voluto toccare con mano la presenza anche attraverso le foto di Fra Rocco. Sì, perché è stato non solo un ricordo, ma un rivivere certi momenti. Rocco è stato il suo sguardo, gli incontri che ha vissuto con tanti parrocchiani. Non solo ripercorre la sua vita, ma stare un po' con lui, possiamo dire, in tutto ciò che ha fatto in questa realtà cappuccina nostra qui a Gela. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 giugno prossimo e sarà visibile tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.00. Evento di chiusura del progetto Navigando a Prodiamo nel Golfo di Gela, la scoperta del nostro territorio, al comprensivo Giovanni Verga, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Il progetto si inserisce fra le attività curriculari programmate nell'ambito del POF e che hanno trovato il necessario sostegno economico nel finanziamento regionale di cui la scuola ha beneficiato. Legati per crescere, sono stati realizzati diversi laboratori, tra cui ceramiche d'arte e viviamo la città da protagonisti. Attraverso la storia e il racconto di miti e leggende, visite guidate al museo e ai siti di interesse storico, archeologico e ambientale, gli alunni sono stati condotti in un viaggio che ha risvegliato in loro l'amore per Gela e che li ha portati a conoscere le radici delle usanze e delle tradizioni locali. I laboratori sono stati tutti ben sviluppati e portati a termine, partendo dal laboratorio della conoscenza e quindi proprio della conoscenza diretta, della visita ai siti peculiari e importanti della nostra città per la conoscenza e la valorizzazione degli stessi, rispetto ai quali poi abbiamo proceduto con un lavoro di cucitura e quindi di rappresentazione dello stesso territorio, attraverso la fruizione, quindi la creazione di un nuovo laboratorio di ceramica nel plesso di Via Caviaga e così attraverso un laboratorio di drammatizzazione realizzato appunto dalle classi quarte e quinte, laddove le quarte hanno più valorizzato e approfondito i temi che riguardano il folclore e la tradizione e le quinte invece i temi che riguardano l'ambiente di oggi e quindi l'inquinamento o piuttosto che lo sviluppo economico del nostro territorio. Il tutto ben inserito anche in un'altra cornice, che era quella del fare notizia o meglio della trasparenza, quindi rispetto al tema della legalità che è il filo conduttore del progetto. In occasione della giornata di chiusura è stata presentata la stampa del giornale d'Istituto Legati per Crescere, strumento di narrazione e testimonianza di tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari sviluppate durante l'anno scolastico sui temi della legalità, della conoscenza e della valorizzazione del territorio, sui valori di un'educazione improntata alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente, ispirata ai valori dell'intercultura, della solidarietà e dell'accoglienza. Ventilazione non invasiva in età pediatrica è stato l'argomento dibattuto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela nel corso del convegno che ha visto la presenza di numerosi pediatri e personale sanitario. L'obiettivo è quello di offrire all'utenza le metodiche diagnostiche, terapeutiche delle linee guida più recenti elaborate dalle società scientifiche. Dottore, che cosa è la ventilazione non invasiva e che cosa vuol dire in termini di salvezza proprio di una vita? Ci sono delle insufficienze respiratorie, poi al di là del fatto che siano nel neonato, nel lattante, nel bimbetto un pochettino più grande, individuato il tipo di insufficienza respiratoria, una ventilazione non invasiva, che poi in pratica significa semplicemente senza intubare il bambino, quindi senza questa pratica un po' cruenta se vogliamo, consente, permette di prevenire le insufficienze respiratorie che vanno ad intubazione. Quindi riconoscerla in tempo ed attuare questo tipo di ventilazione, che poi è anche semplice, perché chissà cosa sembra vederla, però se uno poi praticamente lo vede, si rende conto che è una semplicità unica e sola e offre una qualità di assistenza meravigliosa, anche in termini di confronto del demogas. 20 minuti di ventilazione non invasiva migliorano il paziente in una maniera spettacolare, documentabile dall'emogas analisi. Questo ci ha convinti e ci scommettiamo senza nessun tipo di problema, perché abbiamo medici, infermieri assolutamente motivati a crescere, io lo sto vedendo, tanto che da un po' di tempo offriamo dei servizi differenziati, cioè specialistici, non una pediatria di ordine generale, facciamo la dermatologia, facciamo l'allergologia, facciamo la neonatologia col fallo up, ci organizzeremo per altre cose che non voglio anticiparvi, perché man mano ci qualifichiamo e li offriamo poi all'autenza. Il convegno di ieri è il secondo step della formazione continua per i pediatri, cominciata lo scorso anno. Lei ha fatto vedere ai suoi colleghi gelesi un video abbastanza semplice, quanto esplicativo, di queste manovre, di questa nuova pratica non invasiva per i neonati. Quali sono le più importanti novità apportate da questo nuovo trattamento? Fondamentalmente il trattamento è stato importato dalla medica, da John Buck che è stato realmente l'antisignano di questa metodica. Qual è il razionale? Il razionale fondamentalmente è aiutare chi non riesce a tossire, chi non riesce a eliminare le segrezioni, aiutarlo in maniera esterna, come? Grazie a una macchina che non fa altro che simulare la tosse. Noi come tossiamo? Aumentiamo la pressione dentro la capacità toracica e poi eliminiamo una pressione negativa e questo ci fa buttare le segrezioni. Fondamentalmente la mie, che è questa in-ex-suffletto che vi ho fatto vedere, simula questo. Cioè non è altro che riuscire a sopperire un'incapacità del soggetto a tossire. Lo riusciamo a sopperire grazie alla macchina. Il piano di riordino della viabilità nel centro storico di Gela continua a far discutere. Ieri il comitato di quartiere dello stesso centro storico ha evidenziato alcune problematiche che interessano la zona, il riferimento è alla ZTL. I residenti del Corso Vittorio Emanuele e della via Bresmes, cioè quelle vie interessate al provvedimento della ZTL e anche della nuova viabilità, hanno manifestato le loro perplessità per non poter raggiungere le proprie abitazioni durante l'orario di ZTL, soprattutto perché si protrae fino alle 3 del mattino. Quindi c'è una richiesta forte da parte dei residenti di poter raggiungere le proprie abitazioni per sostare brevemente e per il carico e lo scarico di merci, superlettili, tutto quanto altro può servire a una normale via. Eravamo d'accordo per una ZTL con un orario decente settimanale che poteva essere aumentato nella fine settimana, ma tutti i giorni, fino alle 3 di notte, diventa insostenibile. Il comitato di quartiere avanza alcune proposte all'amministrazione comunale. È nata anche l'esigenza da parte di tutti i residenti del centro storico di cancellare queste benedette micro aree per la sosta gratuita dei residenti e trasformarle in macro aree, cioè avere la possibilità in ampie zone di poter parcheggiare. Un'altra richiesta che è venuta fuori è quella della verifica delle strisce blu, perché in centro storico esistono soltanto strisce blu con pochissime strisce bianche, e anche dell'occupazione abusiva, tra virgolette, da parte degli automezzi comunali che sono disseminati lungo tutto il tragitto delle strisce blu, impedendo agli altri di poter sostare tranquillamente. Lo stesso comitato di quartiere attende ancora di avere un incontro con la sindaco per i temi che interessano l'acqua, la polizia, la mautenzione e la sicurezza. Reduce dagli ultimi successi conquistati in ambito musicale, l'orchestra della scuola Ettore Romagnoli di Gela si è esibita ieri dinanzi al proprio pubblico nei locali dell'auditorium dell'Istituto Scolastico, ancora prestigiosi traguardi per chi sposa il progetto musicale, riconoscimenti in serie. Abbiamo partecipato il 30 maggio a De Cereale, quindi un concorso internazionale, dove noi siamo rossificati primi con l'orchestra, primi con una musica da camera, formata da flauti e trompe, poi un secondo posto, un duo di chitarra, un altro primo posto, un quartetto di chitarra, e poi dopo i solisti abbiamo avuto un ragazzo di terza media, l'Ambrio Vincenzo, che ha fatto il secondo posto, un altro secondo posto, il pianista Fidone Emanuele, e un primo posto di un ragazzo di prima, che ha stupito proprio la commissione, un suono spettacolare, un ragazzo di prima si trova scioccati, ha fatto il primo posto, Michele Vitale. Poi il 31 maggio abbiamo partecipato alla terza edizione del concorso Gela Semi Music di Gela, dove siamo arrivati anche al primo posto. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Parliamo di una scuola che è già al ventiduesimo anno di indirizzo musicale, e quindi è una scuola che ha maturato una grande esperienza, anche in sede di concorsi nazionali e internazionali. Certo, quest'anno c'è stato una sorta di cambio di passo, nel senso che anche grazie all'inserimento di ulteriori strumenti all'interno del nostro parco offerta formativa, e quindi ad esempio all'inserimento delle percussioni, delle chitarre elettriche, è stato possibile veramente raggiungere un suono, un ritmo molto particolare, che opportunamente guidato dai docenti del Dipartimento di Strumento, un Dipartimento quest'anno estremamente affiatato, estremamente brillante, e tra l'altro anche integrato dagli aspetti positivi della legge 107 della Buona Scuola, l'organico di potenziamento, abbiamo un docente potenziatore proprio di strumento, beh, mi pare che siano stati raggiunti veramente risultati molto russinghiari, che intanto danno soddisfazione alle famiglie, perché vedono che i loro figli non solo vengono a scuola ampliando tra l'altro l'attività curriculare per imparare uno strumento, ma lo fanno anche per imparare uno strumento, suonarlo insieme agli altri, ottenendo dei risultati comuni. È stato celebrato ieri il 199esimo annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Contrada Balate a Gela, una cerimonia sobria ed elegante che ha registrato la presenza delle massime autorità locali, civili e militari. 199 anni di storia, di valori, di orgoglio, di onore, di servizio al servizio della nazione ed è straordinario, straordinario perché gli uomini continuano ad avere passione, continuano ad avere motivazione, continuano a trasformarsi, perché seguono l'evoluzione che la società italiana nel corso del tempo ha avuto fino ad oggi. Siamo molto contenti, siamo molto felici di dedicare questa giornata a tutti i poliziotti penitenziari, alle famiglie che condividono onori, gioie, dolori, tanti dolori. Un ricordo va ai pensionati e ai caduti della Polizia Penitenziaria nell'attempimento del dovere. Oggi siamo qua ad esaltare il blu delle nostre divise. Lei che cosa si augura per questo Corpo nel giorno del compleanno, il 199esimo? Lunga vita. Lunga vita al servizio del Paese, Lunga vita nella contribuzione alla sicurezza delle città in cui le istituzioni penitenziarie insistono e lunga vita anche per quel concetto importante di condivisione. È una tradizione storica molto importante al servizio delle strutture, in particolare della Casa Circondariale di Gela, che è molto adatto a questo territorio. Molto adatto e molto conta di dare. È un prezioso contributo, in realtà tutto si dà e molto si riceve. La partecipazione anche alla festa è significativa. Ci sentiamo parte come grande condominio della città. Vorremmo essere anche un condominio produttivo. Sindaco, la Casa Circondariale di Gela ormai attiva da diversi anni una struttura di cui la città aveva veramente molto bisogno. I risultati sono arrivati, sono davvero straordinari. Questa è stata considerata una delle strutture più virtuose d'Italia. Avere questa struttura nel nostro territorio, dove fra le altre cose ospita persone anche del territorio, consente di poter avere una maggiore vicinanza agli affetti, mentre le persone scontano la pena nei confronti della collettività. Quindi è una struttura importante, una struttura di rieducazione importante, una struttura che devo dire si è fatta valere e sono sicuro che si continuerà a fare valere a livello sia regionale ma anche a livello nazionale. Era il novembre 2014 quando a Roma, presso la sede del Mise, il Ministero per lo Sviluppo Economico si firmava il protocollo di intesa che sanciva la fine della raffinazione del petrolio a Gela. Al suo posto veniva annunciata la riconversione dello stabilimento di Piana del Signore che avrebbe dovuto modificare senza far perdere nessun posto di lavoro, almeno così avevano detto i nostri rappresentanti politici che avevano apposto la loro firma su quel documento dalla portata sicuramente storica, la produttività del sito industriale gelese. Niente più petrolio da lavorare, niente più raffinazione e niente più devastazione del territorio con il pesante inquinamento portato da quella petrolchimica. Ma da quel lontano 6 novembre 2014 di tempo ne è passato e dalla devastazione del territorio con la fabbrica del Cana Seizampe in marcia si è passati alla devastazione economico-sociale di un'intera comunità. La chiusura dello stabilimento è infatti apportata in questi lunghissimi 18 mesi allo sconvolgimento del tessuto economico-finanziario della città. Licenziamenti, disoccupazione e drammi sociali sono stati all'ordine del giorno. L'ultimo dei quali riguarda l'operaio della SMIM Matteo Guerrei che per disperazione, visto che non percepisce la cassa integrazione da oltre otto mesi, si è asserragliato in cima ad un pontone della sua ex ditta. Ieri finalmente dalle parole si è cominciati a passare ai fatti. La Green Raifaneri non è più nel libro dei sogni. I vertici nazionali di Eni sono venuti a Gela a dire che è stato assegnato l'appalto alla ditta americana Forster e Wheeler per la costruzione dell'impianto di bioraffineria Green. Ci vorranno altri 12-18 mesi per poterlo vedere in funzione. Ma intanto è stato definito che a lavorare sul cantiere che costruirà il più grande impianto di Green Raifaneri d'Europa saranno soltanto maestranze locali. Una boccata d'ossigeno per la sfittica economia gelese. E poi la conferma che Eni non ha alcuna intenzione di abbandonare il sito di Gela e che il colosso energetico italiano vuole invece puntare decisamente sul polo industriale di Gela. Una speranza in un mare magnum di problemi che potrebbe diventare il volano di un nuovo sviluppo magari stavolta meno ancorato alla sola presenza di Eni di questo martoriato territorio. Nell'agosto del 2014 Matteo Renzi venne a Gela per dire che nell'arco di pochi mesi in Italia dovevano chiudere cinque raffinerie e Gela faceva parte di questo lotto. In realtà dopo due anni e mezzo ha chiuso solo Gela. Come mai? No, io questo non lo so e non riesco a commentarlo le affermazioni del nostro Premier. Oggi Gela non ha chiuso. Oggi Gela rilancia. Come abbiamo visto che una raffineria che perde ogni anno importanti soldi oggi in realtà si è trovato il modo di poter rilanciare questa attività. Quindi non la guardiamo con qualcosa di chiusura, guardiamolo verso un futuro. Un futuro che è sempre più green, un futuro che non ha solo la raffineria ma anche altri progetti molto importanti per il territorio. Il 6 novembre del 2014 a Roma lei c'era quando si firmò quel protocollo? Non c'ero. Vabbè, però conosci i termini di questo protocollo in maniera pedissegua, no? Ne ho copie in tutte le stanze della mia casa. Quello che le voglio chiedere, però non è se lo conosce bene o non è il protocollo, è che allora i nostri rappresentanti locali, politici, che firmarono quell'accordo ci dissero in pompa magna che non si sarebbe perso un solo posto di lavoro. Siamo nel giugno del 2016 e qui c'è gente che si arrampica sui tralicci perché non ha più il lavoro, quel lavoro. Io non voglio commentare, entrare nell'ambito delle situazioni che sono legate all'edito e agli appaltatori. Noi qui abbiamo, come dicevo in precedenza, rispettato gli impegni che erano scritti su quel protocollo. Il protocollo indicava 900 risorse dell'indotto che avrebbe voluto lavorare nel 2015 e ne hanno lavorato nel 1062. È chiaro che se noi guardiamo a 20 anni fa l'indotto aveva una dimensione diversa. Guardiamo, ribadisco al presente e al futuro, in questi momenti come sostegno per quelle risorse che non riescono oggi a trovare un'occupazione ci sono degli ammortizzatori sociali, dei sostegni al reddito. È chiaro, ribadisco, che qui comunque non dimentichiamo che stanno lavorando 1250 persone. Nella ottica strategica mondiale di Eni, Gela cosa rappresenta? È un punto molto importante, un paricentro di attività, avete visto, non abbiamo parlato soltanto di attività industriale ma abbiamo parlato anche di attività di formazione, abbiamo parlato di attività di tattiche, abbiamo progetti importanti di ricerca e collaborazione con le università per cui noi crediamo in Gela. Noi siamo convinti che questo percorso potrà portare addirittura più lavoro a Gela perché non sarà più, come dire, un lavoro magari focalizzato solo su un'industria o solo su una tipologia di attività. Ma domani avremo un territorio diverso con più aziende e poi fatemi dire, con aziende più moderne che rispondono di più a quelle che sono le esigenze del mondo contemporaneo. Cioè oggi avere una green refinery è ben diverso rispetto ad avere una raffineria tradizionale anche in termini di prospettiva. Ci saranno ancora altri 18 mesi, cioè da quando entrerà in avvio la green refinery che bisognerà tirare la cinghia e stringere denti? Io direi proprio di no perché già oggi ci sono centinaia di lavoratori delle imprese che lavorano all'interno del sito. Altri lavoratori verranno ovviamente chiamati per lavorare nei prossimi mesi e quindi, come dire, sono convinto che non nascondo sicuramente una certa sofferenza da parte di del territorio, ma tutti i progetti di cambiamento portano delle sofferenze. Però noi stiamo cercando di gestire questa trasformazione cercando di salvaguardare al massimo proprio le maestranze e proprio, come dire, tutte le attività imprenditoriali che a Gela ci sono, alcune delle quali di grandissimo valore. Stoppo al conferimento dei rifiuti soliti urbani nella discarica di Dimpazzo. Il provvedimento è del governo regionale. Per 20 giorni la discarica rimarrà chiusa perché manca l'impianto di biostabilizzatore mobile dei rifiuti che riduce l'umido nel nero. L'amministrazione comunale di Gela lancia un appello ai propri cittadini. Da oggi in poi, di Gior Sindaco Domenico Messinese, bisogna praticare il più possibile la raccolta differenziata. Oggi, più che prima, dico a tutti i cittadini di Gelesi di fare più attenzione alla raccolta differenziata perché più differenziamo, meno materiale portiamo in discarica. La discarica da oggi è chiusa e non si sa per quanto tempo. Noi andremo a fare tutte le azioni per vedere di farla riaprire il prima possibile. Ma per adesso ci costringe a portare i rifiuti che non si possono differenziare alla discarica di lentini con un aumento notevole di costi sia di conferimento che sia di trasporto. Di conseguenza, il fare correttamente la raccolta differenziata consentirà di contenere questi costi e mantenere ugualmente la città decorosa. Io vorrei ricordare che questi soldi li pagheremo tutti i cittadini perché c'è l'obbligo che il totale costo del servizio dei rifiuti è a carico della collettività. Quindi, quando qualcuno non fa la raccolta differenziata e noi lo guardiamo, in quell'istante noi stiamo avvallando una spesa in più che uscirà dalle nostre tasche. Forse è meglio che ognuno di noi incominci a tutelare il bene pubblico, tutelare quelle che sono le regole comuni che servono a tutti quanti per dare il giusto agio. Avvallare certi comportamenti significa consentire di aumentare quelle spese che verranno sostenute da tutta la città. È impensabile poter mantenere un vigilo urbano per ogni cittadino di Gela. È facile dire facciamo i controlli, facciamo più multe. Io non voglio dire che bisogna fare più multe, io dico soltanto essere più rispettoso delle regole e forse tutelare di più la propria salute e la salute degli altri. Quindi la cosa più giusta da fare è quel modo molto educato di sottolineare la mancanza che sta facendo e il danno che sta facendo a lui e a tutti quanti. Quindi fare la raccolta differenziata in questo momento è un atto non solo obbligatorio ma ha una valenza in più. E forse è meglio che ognuno di noi, ogni singolo cittadino di Gela incominci a tutelare il bene di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.